Noi abbiamo realizzato qualcosa che noi tutti forse diamo molto per scontato, cioè il fatto che Matteo Ricchetti lavora con Mara Garfagna, con Maria Stella Gelmini, con Enrico Costa, che è il secondo a essere arrivato, con Giulia Pastorella, con Marco Lombardo, cioè con persone che il bipolarismo aveva diviso ad accettate, tale per cui non potevano neanche parlare insieme. E oggi voi sentite qui dentro una differenza di toni, di proposte, di qualità dei discorsi, perché io non la sento proprio. E allora sapete, quando diciamo che il bipolarismo è finito, il bipolarismo è finito in azione in primo luogo, perché abbiamo saputo farlo finire.